Ciao a tutti! Ma a tutti chi? Io sono Consuelo, ho 32 anni e sto cercando l'uomo della mia vita. Ciao, sono Raffaele, 16 anni e già già cagato. Allora, che dire? Non dicero niente. Prima di tutto anticipo che io sono vergine. Anche la Madonna lo diceva, poi usci incinta. Sono casta e pura e ci tengo molto a questa cosa, quindi voglio trovare praticamente una persona adatta a me. I requisiti? Semplice. Ma Ivarice, adesso facciamo uno con il pizzerio, vai. Ehm, datemi sordi. Poi. Pronto pizzeria? Ah, mi vuolto una cattola, va magari? Che dire? Ehm, lo voglio alto. Basso. Molto alto. Molto basso. Sensuale, la tartaruga ben scolpita. Aspetta un attimo bene. E che dire? La cosa principale. No, 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 aspetta un attimo, che ho pizzerio? Però adesso è pure bello, che su pezzi fanno una, non è che si può mettere una scolfanella a fianco, no? Poi, ehm, vado di fretta. Lino ti aspetta. Perché mi aspetta un bagno di champagne. Ah, no, Lino. Perché voi dovete sapere che io una volta al mese faccio il bagno nello champagne e lo shampoo con latte di capa appena molto. No, ehi, mi faccio cucchisto. Quindi, oh, ti sto aspettando, amore. Lino! Te lo vogli? Fai presto, chiamami, contattami. Cangello numero. Sono tutta per te, ma mi raccomando, io sono una ragazza molto perbene. Devo essere un po' presa con calma, perché ci tengo a precisare che essendo la prima, comunque io voglio il primo grande amore, sono 32 anni che l'aspetto, quindi... Quindi è spettando ora. Consuelo, mia, è un po' stanca. Lo cerca, lo vuole, lo pretende, però non è adesso caff... Lino è caffù, non ci piace. Perché caffù, già ci basto io. E che dire, ti stai aspettando? Papà, salvavi! Di nuovo! Ciao, ciao, ciao!